E' indegno per una società civile lo stato in cui versa l'ex area container di via circunvallazione a Torre del Greco. L'ennesima denuncia arriva in queste ore dall'Università Verde, che da tempo si prodica e monitora l'area chiedendone una radicale bonifica. Alle spalle del vergognoso cumulo di immondizia c'è un plesso dell'istituto comprensivo Sauro Morelli, che si affaccia proprio su quest'area. Tutti i mercoledì e i venerdì si svolge un frequentatissimo mercato anche di generi alimentari. Sempre in questa zona quotidianamente vengono parcheggiate decine di auto. Certamente c'è una parte di abitanti di questa città che non ha il minimo senso del rispetto e dell'igiene, che è responsabile di situazioni come questa, complice anche l'assoluta mancanza di controlli. Tuttavia è compito dell'amministrazione comunale la corretta gestione della raccolta dei rifiuti, insieme ad una radicale ed efficace azione di sensibilizzazione ed educazione ambientale nei confronti della cittadinanza. Da tempo l'Università Verde propone all'amministrazione comunale la trasformazione di quest'area in parco verde pubblico, con un progetto concreto che prevede aree attrezzate, un campetto sportivo, uno spazio salute e un orto sociale. Come sempre va sottolineato che una parte della soluzione del problema è nelle buone pratiche quotidiane finalizzate alla riduzione a monte dei rifiuti.